E se parliamo della stabilità di sviluppo della persona, la persona deve essere felice, deve raggiungere al suo stato iniziale originario di libertà. E così vediamo che il controllo politico è un mezzo molto efficace per ricostruire la norma iniziale della persona. E quindi noi vediamo che la sfera politica, in questo caso il controllo politico, è come un sistema che protegge una persona, è come un ambiente che inizia a proteggere, a difendere la persona. E noi così facendo costruiamo attorno alle persone a questo mosaico della politica. che questa persona originariamente ha scelto quando questa persona è stata creata, anzi anche prima di essere creata. Perché questo è il sistema politico, quindi porta con sé anche tutto ciò che quella persona voleva. E quindi noi vediamo che l'accesso alle informazioni, anche questo è una specie di mosaico, e una persona in questo caso ottene l'accesso alla sua eternità. E vediamo che se il sistema politico è determinato in questo modo, allora vediamo che questo esiste a tutti i livelli della persona, in termini di tutte le norme della persona. E quindi questo influenza anche i diritti della persona, quindi il morale della persona. E anche le azioni dell'accesso all'accesso 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 all'accesso. Allora, in questo caso se applichiamo le tecnologie in questo modo, allora possiamo anche vedere che la personalità di una persona è integrale. possiamo vedere che la personalità di una persona, sì, è integrale, è integra e quindi è completa. E poi il criterio della precisione, dell'esattezza del nostro controllo politico, e la relazione dell'anima nell'infinito sarà sempre, anzi il valore dell'anima nell'infinito. Perché i programmi distruttivi non si illuminano all'infinito, quindi, per esempio, quando lavoriamo con una persona e vediamo che abbiamo tolto i programmi negativi da questa persona, vedremo anche la luce di questa persona all'infinito, che si estende all'infinito.